Sono in partenza i cavalli della terza corsa, premio Mettello OM, sono in 7 cavalli di 4 anni al via, vincitori da 10 a 21 mila euro in carriera. Corsa che vede favorita Ancora MP con Roberto Vecchione, allieva di Olga Rellert, a caccia del Quick Double, con un Aurora Key, Alessandro Dettoris, 2 Abramo Petral, Nicola Bortolotti, 3 Attenti al Lupo, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 4 Ancora MP Roberto Vecchione, 5 Aloha Bay, Luca Lovera, 6 Amelie Pan, Salvatore Valentino, 7 April Wise AS, Maurizio Kelly. Problemi per Amelie Pan dietro la macchina, riprende il trotto ma è un po' staccata. L'errore di Ancora MP, attenti al Lupo, al comando nei confronti di April Wise AS, magia da parte di Maurizio Kelly che sfila dalla seconda fila in seconda posizione alla corda ed è alle spalle del leader. In terza posizione c'è Aurora Key a precedere all'Oa Bay, ancora Abramo Petral e Amelie Pan. 14,8 per i primi 200 metri da parte del leader, attenti al Lupo, che precede April Wise AS, ancora Aurora che si scopre dalle retrovie a Amelie Pan. 34 per i primi 400 metri di corsa, risale Amelie Pan, spesa praticamente zero perché la curva è passata in 16,5 da parte del Battistrada, attenti al Lupo, che viene davanti alle tribune in vantaggio. Sempre nei confronti di April Wise AS, Amelie Pan all'esterno, lungo la corda Aurora Key, poi all'Oa Bay, chiude alla retroguardia Abramo Petral. 1, 2 e 1 per gli 800 metri iniziali da parte di attenti al Lupo, che è sempre in vantaggio nei confronti di April Wise AS, poi Amelie Pan. Amelie Pan, sempre protesa all'esterno, nessuno va a fare la pariglia, il chilometro in 1, 17,2. Sempre in vantaggio, attenti al Lupo, che allunga ora sulla dritta opposta alle tribune per mettere in difficoltà Amelie Pan. Si trascina sempre April Wise AS, la dritta di là, passata in 14,3, parziale veloce da parte di attenti al Lupo, che scappa, ma April Wise AS è sempre lì, incollata alla sua schiena. Poi Amelie Pan all'esterno, lungo la corda c'è Aurora Key, 300 metri alla conclusione, con attenti al Lupo in vantaggio, fa la curva in 14,7. April Wise che lo fila da vicino, Aurora Key che va di dentro, April Wise che sposta su attenti al Lupo, attenti al Lupo in vantaggio, ma April Wise AS è già passata. April Wise AS che vince nei confronti di attenti al Lupo e Aurora Key finiti in linea, in fotografia per il secondo posto. April Wise AS è Maurizio Cheli che la inventa in partenza andando secondo alla corda, il training di Walter Zanetti, i colori dello stesso allenatore trevigiano, il successo di April Wise AS, la figlia di Conheol che viene a concludere, netta vincitrice per il secondo. Sono in linea sul palo, attenti al Lupo Aurora Key con probabilmente attenti al Lupo che si è salvato dalla rivale, ma la foto è molto stretta, ovviamente lasciamo il verdetto al giudice d'arrivo. Il successo però è per April Wise AS, Maurizio Cheli e Walter Zanetti, il successo per la quattro anni da Conway Hall, da risottolineare la partenza magica presa da Maurizio Cheli. E allora la vittoria era già in tasca, quando attenti al Lupo in retta arrivo è andato un po' incalando, April Wise è riuscita a emergere nettamente.